Ragazzi benvenuti in questa settima parte Ragazzi guardate come si salta Dovete saltare un poco più velocemente Voi che giocate a Dolce Reading e siete Credo più esperti di me Non dite papà che è scarso Per favore Quando gioca col computer con me è super scarsissimo Cioè non sa portare il cavallo di quando gioca sul computer Boh Che devo fare con te capra non mi serve a niente E che sei un po' carina Sei Cioè per fare tenerezza Calmati Fermati Vabbè butta di città Guardate che bello questo checkpoint E mamma mia ma che velocità Salta indietro salta indietro Eh va bene Sei capito Vai veloce Ma perché ci vogliono far cadere Ok Ok fermati Oh non mi sbatte per qua Aspetta che scende il Che Il nostro Non lo sai Il nostro saetta Nel momento in cui lui scende Oppure devi risalire quell'altro mattoncino Capito Non è così convinto di te Così di mostrare Vedete com'è difficile Ok tu fallo un po' con calma Ok tu fallo un po' con calma Aspetta 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 Sono pronto Ho fatto un po' di yoga Due secondi di yoga ci sono voluti Papà augurami buona fortuna Ti ho detto che ti devi fermare là Non mi ricorda Ok di nuovo augurami perché Difficile Difficile da ricorda Da ricordare Non credevo che fosse così difficile Mi sto Sto perdendo la pazienza Papà dove vai? Nessuno va Raga No I'm gonna I'm gonna pull off Dark Na 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 No Aia! Qualcuno mi aiuti! Qualcuno? Ma che... Ciao! Ragazzi sono ritornata con Patti, vieni, vieni, vieni! Ma che... E qui dove dobbiamo andare? Non è qui! Mamma mia! Opla! 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 Ora... Qua deve fare un certo lungo sicuramente! Visto? Buongiorno! 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 Ok ragazzi! Ragazzi per noi è tutto, ci vediamo... Al prossimo! Al prossimo video! Alla... Alla prossima serie! Alla... Come si chiama? L'ottesima! L'ottesima la chiamo! Ok! Noi andiamo... Alla... Per noi è tutto! Ciao! Ciao!